Per anni era stato il cuore pulsante dell'estate e della movida retina con le sue piscine e la sua discoteca. Poi le sue porte si erano chiuse oltre 15 anni fa e dell'impianto conosciuto da tutti come Tartana era rimasto questo, rifiuti e degrado. L'impianto nel corso degli anni era poi andato più volte all'asta ma nessuno aveva mai presentato un'offerta. Adesso però c'è un acquirente all'orizzonte che ha deciso di prendere parte alla prossima asta in calendario per il 22 ottobre. Si tratta del comune di Civitella in Valdichiana. Nel corso dell'ultimo consiglio comunale è stato infatti approvato all'unanimità l'ordine del giorno relativo all'autorizzazione a partecipare all'asta pubblica. Voglio ringraziare tutti i consiglieri, in particolare quelli di minoranza, per la sensibilità dimostrata nel condividere e approvare l'ordine del giorno, ha dichiarato il sindaco di Civitella, Ginetta Menchetti, che autorizza l'amministrazione a partecipare all'asta per l'acquisizione del complesso Tartana con l'obiettivo di restituire alla collettività un'area che ha rappresentato tra gli anni 80 e 90 il cult del divertimento specie in estate. In un'ottica di espansione e miglioramento degli spazi aperti per il nostro polo per gli anziani, l'area adiacente al complesso Tartana-Prosegue-Ginetta-Benchetti rappresenta una preziosa opportunità su cui investire, sia per un miglioramento degli spazi esterni, sia per l'area adibita a parcheggio pubblico, senza dimenticare l'area boschiva, vero polmone verde per tutta la comunità, da trasformare in un parco pubblico attrezzato. Ritengo, conclude il sindaco, che come amministrazione abbiamo l'obbligo morale ed istituzionale di essere attori di questa operazione e ci auguriamo che questa giudicazione vada a buon fine, lo dobbiamo alla comunità che abbiamo l'onore di amministrare e che più volte ha espresso il desiderio di un recupero pubblico di quell'area.